Ha doppiato numerose importanti attrici sia per il cinema sia per la televisione, come, ad esempio, Lizza Minnelli, Vanessa Redgrave, W.O.P. Goldberg, Shirley MacLen, Elizabeth Taylor, Eva Marie Saint, Debbie Reynolds, Romy Schneider, Kathy Bates, Kim Novak, Raquel Welch e Greta Garbo nel ridoppiaggio di alcuni suoi film tra gli anni 70 e 80. Su è anche la voce di Sofia Loren nei suoi film hollywoodiani a partire da Lady L, di Farrah Fosett in Charlize Angels e di Joa Collins in dinasti. In divorzio all'italiana ha curiosamente doppiato sia Stefania Sandrelli sia Daniela Rocca, mentre in Di Giango ha prestato la sua voce all'attrice Loredana Nushak. Ha dato la sua voce anche in alcuni film d'animazione, tra cui Asterix and Cleopatra. Inoltre è la voce di Carmen Arranz nella serie televisiva spagnola Paso Adelante. Nel 2006 ha vinto il premio alla carriera femminile al Gram Galà del doppiaggio di Romics. Curioso anche il suo ruolo di narratrice nella miniserie tv Storia d'amore ed amicizia. Esordio attoriale del figlio Claudio Amendola. Dove presta la voce alla figlioletta del suo personaggio 40 anni dopo. Come attrice è nota al pubblico televisivo per il ruolo di Gabriella Lanfranchi, suocera di Giulio Cesaroni, ruolo interpretato del figlio Claudio, nella fortunata fiction I Cesaroni. Nel 2012 ritorna nei Cesaroni 5 dove rivestirà i panni di Gabriella Lanfranchi. Nel 2012 le viene conferito il premio alla carriera alla manifestazione Leggio d'oro. Nel 2014 ritorna nei Cesaroni 6 interpretando sempre, per otto anni, dal 2006, il ruolo di Gabriella Lanfranchi. Successivamente non interpreterà più Gabriella Lanfranchi a causa della chiusura della fiction I Cesaroni. Nel 2014 è al cinema con la commedia La mossa del pinguino. Esordio alla regia del figlio Claudio, in cui recita anche la nipote Alessia.